buenda goria ha annunciato di essere incinta ospite di caterina balivo alla volta buona insieme al futuro marito mirko gancitano ha rivelato la tenera notizia sono un po emozionata perché è stato un traguardo che per me è un miracolo oggi non siamo solo in due ma siamo in tre dopo l'intervento di rimozione di una tuba dovuto ad un'inaspettata gravidanza extrauterina è riuscita a rimanere incinta mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli sono tre anni che ci proviamo era il mio grande sogno il mio grande desiderio perché l'ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia perché è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo così guenda goria con la voce rotta dal pianto ha annunciato di essere incinta ospite di caterina balivo con il futuro marito mirko gancitano hanno rivelato che il loro sogno di diventare genitori presto si realizzerà dopo aver dovuto rimandare le nozze inizialmente in programma per lo scorso autunno guenda goria e mirko gancitano si sono lasciati alle spalle i problemi di salute dell'ex gfina e sono riusciti a fissare una nuova data si sposeranno il prossimo 16 maggio sono soltanto davvero felice di essere tornata a casa al fianco dell'uomo che amo me la sono vista davvero brutta è stato traumatico all'improvviso ho realizzato di essere incinta e subito dopo di aver perso la gravidanza psicologicamente è stato un cortocircuito aveva raccontato a fanpage dopo l'operazione e la permanenza in ospedale con il sorriso oggi e con il pubblico di rai 1 è stata felice di condividere la lieta notizia sono felice di aver condiviso questa grandissima inaspettata notizia con voi è infatti scritto tra le stories pochi minuti fa dopo la dichiarazione alla volta buona